Musica Ancora una volta probabilmente non si poteva pretendere molto di più dalla palla a volo Messina che soltanto nel terzo set è riuscita a conquistare un buon numero di punti al cospetto comunque di un avversario che si è presentato motivatissimo ha cercato nonostante tutto i tre punti Sì sicuramente non era questa la partita dove si potevano cogliere dei punti devo dire che loro hanno sì giocato a ranghi completi però obiettivamente si vedeva anche in alcuni frangenti che erano una squadra ormai un po' più rilassata ecco da questo punto di vista noi forse potevamo fare qualcosa in più nei primi due set nel terzo set con qualche rotazione in più da parte del Pulsano forse siamo riusciti un pochino a esprimerci meglio noi certo non era una partita facile il resto il Pulsano è quarto con la vittoria di oggi tutto sommato la matematica ancora non gli dà neanche torto sui playoff purtroppo noi paghiamo la partita del 21 febbraio quella con Martina Franca aver vinto là poteva sicuramente cambiare il nostro campionato invece purtroppo l'ha cambiato in negativo l'ha cambiato in negativo perché abbiamo dato sicuramente ossigeno al Martina Franca che ha preso slancio purtroppo sapevamo che nelle ultime giornate aveva un calendario sicuramente più abbordabile rispetto al nostro anche qui ora dobbiamo sperare che domani il Martina Franca contro il Trapani magari perda a questo punto si deve anche sperare in questo e poi nelle ultime due giornate soprattutto la partita di Casandrino perché già sabato prossimo con l'Alessano che lotta per andare in a due sarà sicuramente una partita molto più complicata di questa e giocarci tutto a Napoli con la speranza di fare un miracolo perché ormai si tratta effettivamente di un miracolo i ragazzi sicuramente fino all'ultima palla lotteranno per questo speriamo in buone notizie da Martina Franca e poi nell'ultima giornata ci giocheremo tutto per conservare comunque questo campionato che due anni fa con tanti sacrifici abbiamo conquistato che l'anno scorso sicuramente abbiamo disputato alla grande quest'anno come sapevamo sarebbe stato di sofferenza potevamo risparmiarci qualche sofferenza in più ripeto se avessimo vinto quella partita con Martina Franca e questi infortuni degli esposti purtroppo ha complicato ulteriormente i piani anche il mercato degli svincolati non offre granché non è semplice correre ai ripari a fine stagione abbiamo fino a ieri mattina insieme a Roberto Bombara sono dato un po' il terreno anche con l'aiuto di qualche procuratore vicino alla nostra società ma purtroppo a fine aprile l'unico mercato che si apre è quello degli svincolati ed è un mercato che è povero oggi perché tra atleti che comunque anche all'estero italiani potrebbero aver concluso i campionati ma anche lì sono in una fase di finale con i playoff o qui nello stesso nostro campionato italiano avremmo dovuto trovare qualcuno che o aveva rescisso il contratto a metà anno o comunque era stato fermo durante l'anno quindi anche in una situazione tecnica e di preparazione non ottimale purtroppo abbiamo avuto a gennaio la possibilità di prendere un atleta che aveva il piacere di giocare con noi ha preferito rimanere nella sua squadra di B2 e alla fine questa squadra tra l'altro ha mandato via tutti i giocatori quindi se penso che è successo questo e oggi potremmo avere magari anche un'altra scelta mi fa rabbia diciamo che nel ruolo dei palleggiatori non siamo stati fortunati perché prima la scelta di vita di Federico che chiaramente abbiamo accompagnato e agevolato perché viene prima di ogni cosa oggi questo infortunio di Luca per cui il campionato è chiuso durante l'anno anche gli infortuni di De Francesco la uscita anche dal roster di Caravello diciamo che non sono stati sicuramente degli episodi fortunati probabilmente con la rosa al completo avremmo potuto giocarci qualche cartuccio in più una rosa che comunque sapevamo che aveva anche tutti i suoi limiti ma nel momento in cui viene azzoppata è chiaro che questi limiti si evidenziano ancora di più e la strada diventa ancora più in salita iscriviti al nostro canale